Nuovi eventi rialzisti sui mercati internazionali dopo l'accordo tra USA e Russia per la Siria, ma soprattutto sulla scia della rinuncia di Larry Summers a correre per la guida della banca centrale americana. Già, perché il tema ricorrente della finanza mondiale degli ultimi mesi sembra essere sempre lo stesso. La Federal Reserve ridurrà o meno gli stipoli all'economia? Procederà a breve con il cosiddetto tapering, ossia la riduzione dell'acquisto di titoli di Stato messo in campo per far ripartire l'economia se le astrisce? Un acquisto che ad oggi equivale a 85 miliardi di dollari al mese. È su questo punto che si scontrano economisti e analisti finanziari, una diatriba basata su due diverse scuole di pensiero, due politiche economiche contrapposte. Una è quella keynesiana, fondata sull'emissione di liquidità nel sistema per uscire dalla crisi, far ripartire l'economia attraverso forti stimoli economici in grado di aumentare i consumi, produzione industriale, creare occupazione e aumentare il prodotto interno lordo. L'altra strada è quella dell'austerità, una soluzione che eviterebbe di appesantire la nazione con troppo debito pubblico, ma che non è detto che vada nella direzione della ripresa economica. Una politica monetaria tanto cara ai repubblicani e che lascerebbe alto il valore dei titoli di Stato statunitensi, abbassandone così il rendimento. L'ex segretario di Stato, Summers, che oggi si è ritirato dalla possibilità di dirigere la Fed, avrebbe scelto la seconda strada, portando a una svolta restrittiva delle politiche monetarie dell'Istituto Centrale, riducendo gli stimoli monetari. Ecco spiegata l'euforica reazione dei mercati. Il suo ritiro potrebbe aprire le porte a Janet Yellen, la vicepresidente della Fed, una colomba favorevole al denaro facile con cui la fine degli stimoli potrebbe tardare ad arrivare. E i mercati finanziari, si sa, vedono negli stimoli economici l'unica panacea contro la crisi. Al contrario, infatti, secondo diversi economisti, la fine degli stimoli, ovvero la fine degli acquisti di titoli di Stato da parte della Fed, aumenterebbe i tassi di interesse, incidendo il negativo sui mercati e sulla crescita economica. Un ragionamento che negli ultimi mesi ha portato addirittura a un paradosso finanziario. A ogni dato macroeconomico negativo corrispondeva una reazione positiva dei mercati, speranzosi che gli stimoli potessero continuare. Adesso, però, è giunta l'ora della verità. Decisivo, infatti, sarà il bordo del prossimo 17 e 18 settembre, quando il FOMC, braccio operativo della Fed, prenderà una decisione sulla riduzione o meno degli acquisti di treasury e di bond immobiliari.